hi guys benvenuti in questo nuovo video avete visto che razza di traffico oggi qui al campo loro se ne vanno al mare io starò in zona perché sono un po raffreddato non voglio fare troppa strada e voglio andare in volo perché voglio parlarvi di una cosa che è successa ultimamente la scorsa settimana probabilmente l'avete visto era sulla bacheca di tutti uno youtuber americano Anthony ha avuto un bruttissimo incidente fortunatamente sopravvissuto questo incidente anche se di solito incidenti come questi non hanno buoni risultati ha condiviso il video dell'incidente ha fatto una cosa davvero molto utile per tutta la community mondiale perché dagli incidenti si impara un sacco e quindi anche se magari un video come quello che voglio fare io non serve io voglio farlo lo stesso perché può essere utile a magari chi o non capisce l'inglese quindi non è riuscito bene a seguire il suo video e tutto quello che c'è stato sui social riguardante al video o chi magari si vuole avvicinare paramotore vede un video del genere non capisce diciamo lo slang del paramotore quindi non capisce bene quello che è successo io voglio fare questo video se non altro per questo quindi adesso andiamo in volo e diciamo un quattro cose allora ragazzi scusatemi devo fare un voiceover perché la gopro non mi ha registrato la traccia audio e vabbè comunque vabbè sono andato in volo con il motore che come vedete non è il mio perché il mio è smontato in garage perché gli sto facendo la manutenzione delle 100 ore più qualche altra chicca che magari poi vi farò vedere ho un motore che mi ha imprestato un amico un Air Italy con il Minari mandiamo il socco del discorso perché poco importa se l'audio non è registrato in volo in questo caso perché dobbiamo parlare del video di Anthony e andiamo a vederlo insieme il video parte con lui in ospedale che mette subito in chiaro una cosa che la luna non è che la BGD Luna 3 che è la vela che lui stava volando non è assolutamente il problema di questo incidente ma lui non si è accorto di quello che lui chiama un tension knot che è praticamente un nodo o comunque una configurazione del fascio della vela non corretto e quindi una parte della vela in questo caso il bordo d'uscita era teso troppo tirato come se lui stesse praticamente frenando lui dice che lui ha guardato a destra a sinistra ma non l'ha visto ma se noi guardiamo nel video lo notiamo poi magari andiamo a vedere e poi lui dice che se sei tutto accelerato tutto trim tutto speed con una vela reflex di questa velocità e vai a frenare lui non è che frena ma questo nodo faceva sì che la vela era come se fosse frenata è chiaro che collassa poteva succedere con tutte con tutti i tipi di vele con tutti i marchi praticamente sostanzialmente quello che che lui dice e che non è importante cosa vuole l'importante è che devi controllare più volte che la vela sia a posto e poi dice vabbè di iscriversi al suo canale eccetera eccetera adesso passiamo alla parte dopo dove inizia il video che lui stava facendo lui qua praticamente spiega che andrà a volare questa vela che sembra essere una vela veramente veloce la più veloce che ha mai provato lui proverà la 23 metri che lo mette nel range diciamo massimo di questa vela nella parte alta del carico diciamo che lo porterà a volare alla massima velocità che dovrebbe essere intorno ai 75 chilometri orari la particolarità di questa vela è che ha un range di velocità davvero ampio che fra trim e speed ha tipo 40 centimetri di gioco di movimento del profilo e io in questo video vi dirò lo vedo non so strano agitato stanco forse secondo me non era nella sua giornata migliore per uno che lo segue sempre secondo me si nota che aveva qualcosa che non va comunque ragazzi adesso andiamo alle immagini forti quindi se siete un po sensibili cioè il video è veramente brutto l'incidente è stato veramente brutto come vediamo già da già dall'alzata si vede che la parte destra della vela rimane un po indietro non lo so può essere stato anche un suo errore ma potrebbe essere potrebbe essere già che si fa notare il fatto che la vela nella parte destra era frenata lui decolla da un check a destra a sinistra poi di nuovo a destra e se noi guardiamo facciamo un fermo immagine la carrucola del freno a sinistra e sul dietro come dovrebbe essere bene sulla destra qua si vede benissimo e sul davanti quindi probabilmente il problema è stato che la bretella era arrotolato su se stessa o non disposta correttamente e quindi il fascio era non era giusto era completamente storto poi qua lui si mette senza comandi con il telefono in mano a controllare la velocità da tutta pedalina che non è proprio tutta manca ancora un 4 5 cm non so quanti e vabbè si è la vela con l'assa qua poi il disastro con una velocità impressionante poi la vela si mette in twist con le bocche verso terra e lo porta giù verso terra vabbè poi qui fermiamo non ci serve guardare oltre perché le scene sono abbastanza forti poi arrivano i soccorsi arriva sua moglie ed è un video veramente che ti fa ti fa pensare ok ragazzi abbiamo visto il video quindi la causa di questo incidente è stato il fatto che la vela aveva un problema al fascio nello specifico aveva il bordo di uscita della semi alla destra frenato quindi quando lui è andato a mettere la vela al massimo della sua prestazione di velocità quindi con il profilo reflex al massimo noi sappiamo benissimo che le vele che hanno un profilo reflex quando sono in reflex non vanno toccati i freni per questo hanno fatto e fanno le tip che vanno ad agire solo sulle punte delle due semi alle per farci virare il freno non va toccato quindi lui in questo caso praticamente aveva la vela frenata l'ha messa in tutto reflex e la semi alla chiuso cosa possiamo imparare noi da questo incidente prima cosa che la vela a terra va controllata dobbiamo controllare che il fascio sia a posto se c'è vento facciamo un bel pre gonfiaggio e la guardiamo tutta se non c'è vento e non riusciamo a fare un pre gonfiaggio magari dobbiamo cercare di farlo lo stesso anche se corriamo anche se ci rompe le palle poi magari rimettere a posto bene la vela oppure prendiamo il fascio e lo controlliamo prima le a vediamo che siano tutte libere poi le b vediamo che siano tutte libere poi le c e le d quando andiamo in volo ricontrolliamo di nuovo lui lo fa ma evidentemente non l'ha fatto così bene quando andiamo in volo controlliamo tutto partiamo di nuovo dai moschettoni vediamo che sia tutto a posto il fascio e fino ai freni vediamo che l'ala non abbia qualche stecco nelle tip come per esempio è capitato a me quando ho fatto il centesimo video avevo lo stecco nella tip sono atterrato per toglierlo perché non era sicuro volare con quello stecco lì che mi frenava la vela se poi vogliamo portare le vele a queste condizioni quindi al massimo delle loro performance quindi molto vicine al limite prima cosa facciamo quota quota più del dovuto seconda cosa ricontrolliamo di nuovo tutto il fascio e lo andiamo a fare con criterio quindi mogliamo tutti i trim cominciamo a dare speed e andiamo a darlo e guardiamo il fascio vediamo quello che fa la vela eccetera eccetera poi se è tutto ok ok gli diamo e siamo tranquilli possiamo anche farlo un po più basso perché l'abbiamo già testato in quel volo e il fascio era a posto un'altra cosa che voglio dire magari a chi si avvicina non spaventatevi per un incidente del genere ha fatto impressione a tutti ha fatto impressione anche a me sono andato in volo con un pensiero in più quel giorno lì è chiaro che il paramotore ha un fattore di rischio ma se esaminiamo bene l'incidente ci rendiamo conto che era un rischio evitabile facendo i controlli come si deve arrivato al campo ragazzi questo video finisce qui ringraziamo Anthony per aver condiviso la sua disavventura e gli auguriamo tutti quanti una pronta guarigione non mi resta che salutarvi invitarvi a iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao